Partita da Dio per questa stagione della Roma ai suoi fedelissimi tifosi. Per lasciare un buon ricordo ci si mette subito, nonostante una setta di ghiandi nei primi minuti. Ma al settimo Ghigia va a gambe levate per uno sgambetto. Rigore, Pandolfini spiazza Bardelli e fa centro a un pelo della scarpa del portiere. Verso la mezz'ora altro grosso pericolo per la Roma, ma il tiro di Bassetti troppo alto per le braccia di Albani incontra la traversa e rimbalza in zona di sicurezza. Poi Lossi va al riposo zoppicando in anticipo, ma nella ripresa è di nuovo al suo posto giusto in tempo per vedersi passare sotto il naso la palla del pareggio segnato da Klein. La Roma non smobilita e Giuliano si vede bloccare un bel tiro al golo. E al nono Ghigia alza un pallone d'oro sulla testa di Galli, che a volo d'Angelo fulmina Bardelli. Gol! Azione splendida, gol da manuale. I giallorossi sono lanciati, alle spalle Albani vigila e ferma tutto. E Ghigia ripete la mezz'ora la prudezza che Galli, testina d'oro, sigla con un destro che non vale meno della testa. Una buona partita, due gol da manuale. I tifosi possono essere lieti e aspettare con fiducia la Roma del 56. Grazie a tutti!